E' la danza la madre di tutte le arti perché mentre la musica e la poesia esistono nel tempo la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Ce lo insegna al fanese Edoardo Cinotti, 12 anni appena compiuti, la cui passione per la danza vibra nel suo sinuoso corpo dall'età di 4 anni. Un talento immediatamente riconosciuto e poi cresciuto da Serena Gubert, direttrice artistica della scuola di danza fanese Vaganova, che insieme alla famiglia di Edoardo ha partecipato al riconoscimento assegnato dall'assessore Barbara Brunori e dal sindaco Massimo Seri per l'ammissione del nuovo Babybolle al secondo corso Accademia della Scala di Milano. Io ho sempre ballato fin da piccolo, sempre con questa voglia di muovermi, di essere libero. A 4 anni sono entrato al Vaganova e mi sono sempre impegnato costantemente tra varie lezioni e tra varie discipline. Io al Vaganova faccio 3 ore ogni giorno, cambiando vari stili tra il classico, il moderno, il contemporaneo e il carattere. Fin da quando ero piccolo mi è sempre appassionato lo stile della danza classica, che tutt'oggi stimo e continuo a lavorare. Il mio punto di riferimento è Claudio Covello, primo ballerino del teatro alla Scala. Uno spettacolo che mi ha sempre appassionato vedere e anche interpretare è lo Schiaccianoci. Come la musica la danza è un mondo a parte, se non ci si entra non si capisce quanto è difficile quanto è grande. Quando si capisce che il ragazzino è dotato, ha una famiglia dietro, ha voglia di lavorare, allora si parte con un lavoro serio. Ci deve essere una scuola che sia in grado di sopportare questo tipo di percorso, quindi sia dare capacità tecniche che anche seguirlo in tutto il suo cammino, consigliando lui e la famiglia attraverso stage, concorsi. Noi siamo fortunati perché in questi 25 anni di attività abbiamo, tra virgolette, sfornato parecchi ballerini che adesso lavorano a livello professionale. Mi piace ricordare Francesco Mascia e Giovanni Perugini, due ragazzi fanesi, uno al Teatro dell'Opera e l'altro alla Scala di Milano. Attualmente danzano a Milano e a Roma. Edoardo ha sempre avuto una spiccata predisposizione. Io credo che abbia iniziato a ballare prima che a camminare e una grande espressività, un grande spirito artistico, quindi sa anche interpretare molto e qualunque genere gli si proponga, in qualunque genere è credibile, è polivalente, quindi penso che questa sia una cosa che lui ha sempre avuto in più, su cui abbiamo lavorato ma che comunque era già in lui. Dopo un lungo percorso di audizioni e concorsi, con la vittoria di una borsa di studio all'Accademia Nazionale di Berlino e la conseguente vittoria del Premo al Talento allongiano, oggi Edoardo è pronto per la sua nuova avventura nel Tempio della Danza Milanese, non un semplice luogo per perfezionarsi ma uno spazio artistico per vibrare, volare e condividere la propria energia con il mondo. Edoardo è sicuramente un modello molto positivo, non solo per la città ma per il mondo della danza, per il mondo dello sport. È un ragazzo che appunto cresce nel benessere, nel sogno, nella fiducia grazie a una sinergia preziosa che parte da lui, quindi dalla sua volontà, dalla sua responsabilità, dalle sue capacità ma dall'impegno anche che c'è di una famiglia che gli trasmette dei valori e che vengono consolidati da una società sportiva, che lo accompagna in un viaggio che sicuramente è una crescita personale ma è anche una crescita penso che noi tutti come città vogliamo festeggiare. Oggi Edoardo farà un'esperienza importantissima perché la Scala di Milano non è un'esperienza solo che si fa nel mondo del ballo ma si fa nella vita perché è un ragazzino che si appresta a vivere appunto un momento anche personale dove si ritroverà senza famiglia, dove si confronterà con tanti momenti nuovi di difficoltà ma momenti che lo renderanno sicuramente più forte e un ballerino che ci aspetteremo insomma di veder ballare chissà come bolle un giorno. Perché come disse la ballerina Melissa Hayden, imparare a danzare ti dà la libertà più grande, esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei.